Ritengo che Bolzano abbia bisogno di una forte coalizione di centro per essere governata, quindi moderata, che possa dare delle risposte concrete ai cittadini. Al nostro microfono, declinando l'offerta di guidare il centro-destra e quindi di correre alla carica di sindaco per Bolzano, lo aveva detto, la città ha bisogno di una forte coalizione moderata. Ed ora, a distanza di un paio di settimane, da quelle dichiarazioni ha deciso di scendere in campo, ma da leader di una lista civica per il sindaco uscente Luigi Spagnoli. Questa è la decisione presa dal farmacista Matteo Bonvicini, presidente di Federpharma Bolzano e uno degli amministratori dell'azienda familiare, la clinica Bonvicini. Era stato corteggiato dal centro-destra, si era preso del tempo per pensare e poi il 20 febbraio aveva deciso di declinare l'invito, spiegando ai nostri microfoni di essere molto impegnato sul versante professionale. Forse però, a non convincere del tutto il farmacista Bolzanino, era stata l'idea di scendere in campo con un progetto troppo di centro-destra. Ecco quindi ora la svolta, la decisione di creare una lista civica moderata e di appoggiare il sindaco uscente Luigi Spagnoli.